Nel perenne confronto tra chi sostiene l'utilità della chimica, chi invece teme gli effetti nocivi sulla salute pubblica, entra in gioco anche l'importanza del mantenimento dei posti di lavoro in un periodo di grande crisi economica. In questo quadro si inserisce la storia della Solvay di Spinetta Marengo che adesso minaccia di spostare la produzione della nuova sostanza chimica CI6O4 in uno dei suoi stabilimenti in Francia con una conseguente riduzione del numero degli attuali 600 dipendenti dello stabilimento spinettese. Il rischio è che si potrebbe perdere oltre la metà dei posti di lavoro. Questo è un altro elemento che dovrebbe influire sull'opinione pubblica in questo processo d'avvicinamento alla seconda conferenza dei servizi che dovrà decidere appunto se concedere il permesso richiesto dalla Solvay per l'ampliamento della produzione del CI6O4 e per arrivare a produrne 20 tonnellate in più. A far scattare l'allarme del fronte ambientalista e di un organo istituzionale come l'ARPA Dipartimento di Alessandria è stata la scoperta di infiltrazioni della sostanza nei pozzi dell'acquedotto di Monte Castello. A quel punto tutti hanno chiesto maggiori garanzie per la salute pubblica, compresa l'amministrazione e l'intero Consiglio Comunale di Alessandria. Servono maggiori prove che la sostanza non sia pericolosa, anche perché i cittadini della zona di Spinetta non hanno certo bisogno di correre il rischio di avere altri elementi pericolosi vista l'ultima indagine epidemiologica che ha confermato che l'incidenza dei tumori nella popolazione locale è a livelli nettamente superiori alla media italiana. All'ultima conferenza dei servizi la stessa Solvay aveva chiesto una sospensiva prima di esprimere il giudizio sull'autorizzazione promettendo che entro 60 giorni avrebbe emesso a punto un miglior sistema di filtraggio per tenere la sostanza entro i confini dello stabilimento e quindi impedire la sua infiltrazione nelle falde acquifere. Operazione comunque molto difficile da mettere in atto in poco tempo, manca poco più di un mese alla seconda conferenza dei servizi per l'autorizzazione, per la produzione di questo C6O4 ed ecco che si mette in primo piano la pesante conseguenza di una sua bocciatura. Molti posti di lavoro saranno a rischio perché la Solvay fa sapere che la produzione finirebbe in un suo stabilimento francese vicino a Digione. Sembra che in Francia infatti le istituzioni siano meno fiscali nei limiti di inquinamento e di emissioni. Qui da noi i comitati ambientalisti invocano una legge che fissi dei limiti ai nuove PFAS di cui fa parte appunto il C6O4 e in chiusura aggiungono ma la Solvay sta minacciando lo spostamento in Francia. Ci dica adesso loro cosa vogliono fare con la bonifica del sito di Spinetta.